Incidente nella serata di sabato 27 agosto sulla strada che conduce a Cornier all'altezza dell'incrocio con strada Rivarotta a Castellamonte. Un Audi A4 fuori controllo uscita di strada terminando la soccorsa contro un albero. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e della Croce Bianca di Valperga, la polizia locale e i carabinieri di Valchiusa. Il conducente, subito a soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, ferito ma non in modo grave, in corso e accertamenti sulle cause del sinistro. Grazie. 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 Grazie.